Sui problemi che sta creando in provincia di Nuora la momentanea carenza di autisti ARS provocata dalla pandemia interviene il gruppo del PD in consiglio regionale che sul tema ha presentato un'interrogazione, primo firmatario il consigliere Roberto De Rio. Nonostante la dotazione organica risponda alle esigenze del fabbisogno, spiega l'esponente Dem, la diffusione del Covid sta causando nella provincia nuorese una costante assenza di autisti ARS, impossibilitati a prestare servizio in quanto contagiati. Una problematica alimentata ulteriormente, si legge nella nota, dall'alto numero di lavoratori che beneficiano dei permessi della legge 104 che sta compromettendo l'andamento delle corse programmate. Evidente, prosegue il consigliere De Rio, che la mancanza di autisti ARS limiti il numero di corsi disponibili per potersi spostare all'interno del nuorese, un territorio già di per sé penalizzato dalla carenza di mezzi pubblici alternativi indispensabili per svolgere le principali attività come il lavoro o lo studio con tutte le conseguenze che ne derivano. Da qui l'interrogazione all'assessore dei trasporti Giorgio Todde per sapere in che modo intende apporre in atto delle misure indispensabili per risolvere la questione della mobilità interna nella provincia di Nuoro. Questa situazione sta creando e creerà nel prossimo futuro più di un disagio ai cittadini. Mi auguro, conclude il consigliere De Rio, che la Regione intervenga subito per garantire il trasporto pubblico locale, che rappresenta uno dei servizi essenziali per il territorio. Grazie. Grazie.